La giostra del giudicato, sabato 21 settembre, un tuffo nella storia medievale di Oristano tra costumi d'epoca e manifestazioni equestri. Alle 10 l'annuncio dell'Araldo, alle 16.30 la partenza del corteo storico dall'antica reggia giudicale in Piazza Manno. Dalle 19 a Sarodia, Corsa l'Anello, con i cavalieri su cavalli anglo-arabo sardi, musiche balisardi. Un evento della Fondazione Sasartiglia, con l'Agenzia Sardegna Promozione e l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura. Grazie a tutti.